allora video fallito perché il tempo di aprire il cellulare lucio si è fatto il lettino di scotte vedete quelle opera sua era qui appoggiato ci sono tutti gli integratori lui si riesce a incastrarsi in dei posti era lì vicino ai coltelli come qualcuno mi ha detto stai attento ai coltelli lucio ha ragione quella zia che ha detto così comunque ti avevo fatto cioè volevo che tu stessi lì quadratura del culetto tutti i gatti alle gambe a x avete notato che ridere lucio scusa poi di metterti in piedi che volevo fare notare a tutti quanti chi non lo sapesse che i gatti alle gambe a x niente mi sono alzata non per darti da mangiare perché ce l'hai qui ecco le gambe a x di luci allora lui adesso è in un periodo che io devo stare qui a vederlo mangiare mangia solo se sto qui dai luci da la mamma non ti dà altro perché questo è buonissimo l'ho cotto io con le mie manine devi finirlo dai beh allora grazie a tutti Grazie a tutti.